Ciao da Gambari, buona giornata! Com'è stata questa giornata? Fantastico, fantastica, compagnia fantastica. Un po' umida, diciamo. Io non sono clandestino, niente clandestino. Tu non sei clandestino, quindi su questa giornata cosa ci puoi dire? È stupenda. Ti sei divertito? Sì, percato che pioveva, però è tutto a posto. Ora si gioca! Io e lui siamo un campione. Ma abbiamo due campioni. Abbiamo vinto tutte le battute. Abbiamo perso. Abbiamo vinto. Comandante non c'erano. Mamma, che ci vincereai? Valeria, venga. Una giornata favolosa. Dopo quattro sorelle ho avuto la quinta. Maria è diventata mia sorella perché è bella, combattiva. Maria amante perché è combattiva. Io le voglio così le mie sorelle. Combattive. È stata una bella giornata. Più di 40 persone. Ci siamo ritrovati. Tante sono andate a sciare perché c'era un po' di neve sulla seconda pista. Ci siamo divertiti al ristorante. E poi tra poco si ritorna. Alla salute di tutti. Alla prossima. Bella. Ti sei divertita? Sì. Quanto ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto quando siamo andati sulla figlia. E anche quando siamo venuti qua. Che tutti dicevano fermiamoci al negozio. Il diavolo è l'acqua santa. Il diavolo è l'acqua santa. Il diavolo è l'acqua santa. Il diavolo chi è? Don Juan. Un altro scherzo ha fatto. Un altro scherzo. Mamma mia, basta. Un nuovo giro. Io non lo sapevo. No, lo sapevo. Facciano una parola. Un altro scherzo. Sulle amministrative del Comune di San Lorenzo. 20 anni di commissario. Prossima amministrativa del Comune di San Lorenzo. Speriamo che al più presto abbiamo un sindaco perché non si può andare avanti. sempre come stare. Dalle ultime indiscrezioni. Un imprenditore e un giovane personaggio che non si sa chi è. Uno è Giovanni, come si chiama? Giovanni di cognome? Giovanni Lucera. Giovanni Lucera. Un modesto operaio. Comunque, la massa caffè o calcetto non lo pagano un altro. Va bene. Grazie a tutti per questa bellissima giornata. Grazie a qualche situazione. Però è andato tutto bene. Ci siamo divertiti. A Roma sarà il prossimo obiettivo. Così ci diverteremo. Tre giorni questa volta. E ringraziamo il Signore per questa serata. Bene. Si è conclusa la giornata di festa organizzata dalla comunità parrocchiale di Marina di San Lorenzo e di Rocudi. Un applauso all'autista! L'autista! Come si chiama l'autista? Gabriele, Gabriele, Gabriele. Un applauso a Gabriele, l'autista. Ci ha portato in paradiso. Adesso mi deve dire il prossimo programma quale sarà? Roma, Roma. Prossimo programma a Roma. Tre giorni. Andiamo da Papa Francesco. Siete pronti ragazzi? Sto passando tra di voi. Ognuno di voi dovrà dirmi come è stata questa giornata e cosa vi aspettate dalla prossima uscita. Sempre con Gabriele Autista. Grazie. È stata una bellissima giornata. Ringraziamo Don Giovanni Zampaione per questa giornata. Bellissima giornata. Bella giornata. Passate in compagnia. Ringraziamo Don Giovanni Zampaione, il nostro autista che è stato bravissimo. Ringrazio a tutti. Peccato per il tempo però. Perché non ci ha permesso di divertirci al massimo. Però ringrazio anche per l'ospedale. Se è un castigo, oddio me ne mando un altro. Vai Rita. La prossima giornata a Roma credo che sarà anche più bella di questa. è una bella esperienza, diciamo, con una bella compagnia. È una giornata stupenda. Nonostante il freddo e la pioggia però c'era la neve e ci siamo divertiti. Alla prossima. È stata una bellissima giornata. No, nonostante è addurro. No, c'era. No, c'era. Peccato per il tempo e ci siamo divertiti lo stesso in compagnia di tutti. Noi siamo tutti noi. Qua dormono. Passiamo avanti. Questa è dove? La sua è Maria. Andrò una giornata ricca di pioggia e di gioia. È stato bellissimo. Ma no. È stato bello. Una bella esperienza. Non ci prendono in pieno però. Ci siamo divertiti tanto nonostante non ci sia stata la neve. Maria. Speriamo la prossima volta andrà meglio. È stata una giornata bellissima. Ringraziamo Don Giovanni e tutti coloro che sono venuti. Grazie a tutti i cuori. Ciao. È stata una giornata bellissima solo che è abbastanza fredda. Però ci siamo divertiti tantissimo. Qua si dorme. Qua si dorme. Il vigile urbano del comune di San Lorenzo dorme. Passiamo avanti. A notti. Non fa finire di dormire. È uno dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle. Ahahahah. Ahahahah. Ma io non sono andata. Un po' pregato. Ci chiamiamo i bambini dietro. Cosa dobbiamo fare? Si mettono a giocare. Ah, è Antonio. ah sulla giornata abbiamo detto qualcosa, ci siamo divertiti, guarda c'è una bella atmosfera sì, un'atmosfera mite, ah beh ci siamo divertiti, anzi abbiamo partito in 42, abbiamo fatto una, vabbè meno lo stesso, abbiamo passato una bella giornata tutti in compagnia, ora vediamo di organizzare il prossimo viaggio insieme, per la beatificazione di Don Giovanni nonostante l'assenza della neve, ci siamo divertiti tutti in gruppo in correntina, abbiamo fatto una bella giornata, è stata una bella giornata, ci siamo divertiti ma si dorme qua, si dorme pure, Danilo, Danilo c'è la suora che ti cerca, saluti ma si dorme, si dorme, qua sono clandestini, tutti clandestini qua tutto a posto, guarda la politica? no niente politica, in montagna niente politica non sarà, non sarà un'avventura non può essere soltanto una primavera che trova scontato, che come ha trovato ma il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu